Benvenuti a Non sono solo strade, il podcast che racconta la storia delle persone i cui nomi sono incisi sulle targhe agli incroci delle strade. La puntata di oggi è dedicata ad una via, anzi ad un corso, il cui nome non è di una persona ma di una città. La lunga strada, che oggi chiamiamo Corso Buenos Aires, in origine era denominato Corso Loreto o Stradone di Loreto, poiché nelle sue vicinanze sorgeva una chiesa dedicata a Santa Maria Loreto, voluta da San Carlo Borromeo e costruita agli inizi del 1600. Era molto, molto diverso rispetto a quello che vediamo oggi. Era infatti fiancheggiato da una fila di pioppi su entrambi i lati per tutta la sua estensione e conduceva verso Monza, Lecco e Bergamo. Nel 1906, in occasione dell'Expo, l'Esposizione Universale, in cui il tema era incentrato sui trasporti, il viale fu ufficialmente ribattezzato Corso Buenos Aires. Il sindaco dell'epoca, Ettore Ponti, intendeva promuovere un'immagine più internazionale della città, commemorando la massiccia migrazione degli italiani nei paesi sudamericani. Così nacquero Piazza Argentina e Piazza Lima, e il viale, Corso Buenos Aires, dedicato alla capitale dell'Argentina. Un'altra differenza rispetto ad oggi è che il corso era attraversato anche dalla ferrovia, questo fino agli anni 30, con un ponte ferroviario situato all'altezza di Viale Tunisia, che determinava anche una modifica del paesaggio urbano del viale. Nella sua parte iniziale era alberato con piccole piante che avevano preso il posto dei pioppi, mentre oltre il ponte ferroviario il viale diventava più stretto e privo di alberi. I lavori per la costruzione della metro iniziano nel 1958 con le fermate previste a Porta Venezia, Lima e Loreto. È da questo momento che iniziò il vero sviluppo di Corso Buenos Aires, nonostante fosse sempre stata una delle arterie commerciali più importanti di Milano. Grazie alla sua lunghezza di 1600 metri, quindi oltre il chilometro e mezzo, al suo sviluppo rettilineo e alla varietà dei negozi presenti, il corso è spesso paragonato alla Fifth Avenue di New York. Corso Buenos Aires oggi lo conosciamo tutti, la presenza dei marchi più rinomati a livello internazionale è aumentata. È aumentata tanto al punto che tutta l'area è stata definita il più grande centro commerciale all'aperto d'Europa.